Salve a tutti ragazzi, sono Fry J Apocaloso ed eccomi qui al Games Week di Milano per parlarvi del gioco di Preti in Man. Ci sono un po' di stand dove alcune persone hanno provato il gioco e vedremo se effettivamente sta piacendo perché finalmente per la prima volta arriva in Italia. Quindi, andiamo! Preti in mancia, io lo sovendo a voi, ma nei preti. Voi credete che questo gioco sia una merda, ma non è una merda, è merda che caga merda. Il gioco della forma di posizione comica è eccezionale. Altro che Gatawall, altro che Chatter, comprate voi.